... Ciocca Biancade di Roncadi, infermiera a 50enne, vittima di un tragico infortunio domestico. La donna è rimasta schiacciata da una catasta di legna. Vano l'allarme lanciato dai vicini. 67enne di stranaglia della battaglia urtato mentre a Rinzella la sua bicicletta su Zegana è sbalzato nel fossato dove è stato ritrovato morto e caccia ad un furgone tirata. Dopo Flexman arriva Parkman, il vendicatore dei parchimetri vandalizzati e diverse colonnine in centro a Treviso dove è stata una mattinata di disagi preoccupati i cittadini per eventuali multe. Indagine della Guardia di Finanza di Treviso sulla somministrazione illecita di mano d'opera con contratti fittizi e fatture false nel mirino una cooperativa nel settore della logistica. Luto nel mondo dell'imprenditoria veneta è mancato all'età di 92 anni Francesco Canella, fondatore dei supermercati Ali, il cordoglio delle istituzioni del mondo economico per un imprenditore illuminato e geniale. Sono 700 le donne che in un anno sono arrivate nel pronto soccorso della marca con segni di violenza, fenomeno che da oggi vedrà in campo anche gli operatori del benessere parrucchieri ed estetiste. Matrimoni religiosi in numeri in ripresa nella diocesi di Treviso lo confermò il centro della famiglia di San Nicolò, 825 unioni nel 2023 all'altare per fede ma anche per paura della solitudine. Buonasera dalla redazione di Treviso, questi dunque i titoli. In primo piano la cronaca sciocca biancade di Roncade. Un'infermiera cinquantenne è rimasta vittima di un infortunio domestico. La donna è rimasta schiacciata da una catasta di legna. Era uscita per raggiungere la legnaia a pochi metri dal cortile della casa di campagna di via Erbieron cade quando è stata travolta dalla catasta. Ombretta Castellani, 50 anni, è morta sul colpo sotto il peso dei ceppi. A dare l'allarme i vicini di casa che sono accorsi sul posto subito dopo aver sentito un forte botto. Erano circa le 16 e 30 quando secondo le prime ricostruzioni la donna, infermiera al San Camillo originaria di Santa Maria del Rovere, aveva raggiunto la legnaia per prendere i ciocchi utili per accendere il camino quando improvvisamente la catasta si è rovesciata travolgendola. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del suo M118 e i carabinieri per gli accertamenti ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Allertati anche i vigili del fuoco per rimuovere la legna, operazione che i sanitari sono riusciti a svolgere in autonomia. Nella casa di via Erbe per tutto il pomeriggio non si è fermato il via vai di amici e parenti subito accorsi non appena appresa la notizia della tragedia. Ombretta era madre di due ragazzi, uno di poco più di 20 anni e una ragazza più giovane di circa 19. I vicini scossi dal dolore per una tragedia inspiegabile raccontano Ombretta come una donna solare e sempre gentile. Ancora increduli, i familiari hanno seguito per tutto il giorno il lavoro dei carabinieri mentre conducevano le indagini. Ancora al vaglio l'esatta dinamica dell'accaduto. Ed un'altra tragedia, questa volta a Susegana. Un pirata della strada ha travolto ed ucciso un ciclista 67enne. La polizia locale cerca un furgone bianco. Travolto ed ucciso da un veicolo che l'ha colpito da dietro. Eccaccia al pirata della strada, responsabile della morte di un 67enne di origini marocchine che stava percorrendo la provinciale in sella alla sua bici. Circolava nella direzione da Ponte dell'Apriula verso Falzè. Da alcune testimonianze prese sul posto è emerso qualche indizio e quindi stiamo cercando un furgone che potrebbe essere l'autore dell'incidente. Il ciclista è stato sbalzato dalla bicicletta finendo dentro il fossato accanto alla strada. Un colpo violentissimo che non ha lasciato scampo a 67enne i residenti a Sernaglia della battaglia. L'uomo è morto sul colpo. Immediatamente si sono fermati alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorsi sul posto. Il suo M118 ma per il ciclista non c'era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Il gravissimo incidente è accaduto in una delle strade più trafficate e pericolose, la strada provinciale 34 via Mercatelli nei pressi di una curva. Proprio in prossimità di quella curva dove è successo l'incidente già in passato ne erano successi altri di mortali, sempre di mortali. Noi più volte abbiamo anche chiesto di poter installare degli autovelox fissi perché è una strada dove dai rilievi del traffico che abbiamo fatto la velocità di percorrenza rimane sempre alta ed è molto trafficata. La polizia locale sta già visionando le telecamere di video sorveglianza della zona per cercare il pirata della strada. Non solo, ma sono stati anche ascoltati alcuni testimoni della tragedia. L'appello del comandante Claudio Mallamace. Spesso poi si riesce a risalire chi è l'autore. Anzi, nella maggior parte dei casi si risale. Allora è meglio assumersi la responsabilità sin da subito per evitare poi conseguenze peggiori dal punto di vista del carico sanzionatorio. Torniamo ora a parlare della tragedia di Pagnano. Uno striscione per ricordare Timoti a fisso degli amici e il ricordo della scuola che frequentava il giovane. Timo dai gas lassù e il numero della sua motocicletta 188. È lo striscione che è stato affisso dagli amici, dai compagni di Timoti Dalbello, il ragazzino che avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 8 aprile, morto domenica pomeriggio in un drammatico incidente stradale. E a ricordare la sua passione per le moto anche Andrea Mangano, dirigente del CFP di Fonte, l'istituto che frequentava Timoti a indirizzo meccanico, assieme ai tre amici, tre compagni di scuola, tutti e quattro i giovani coinvolti nel terribile sinistro di domenica pomeriggio. Un ragazzo buono, un ragazzo che si faceva voler bene, un ragazzo che era in grado di entrare in empatia con i compagni di classe, entrare in empatia con i professori, appassionato di motori, un ragazzo con sempre voglia di scoprire cose nuove. Sul suo banco, tre rose bianche. Proprio venerdì della scorsa settimana, aveva mostrato ad una nostra professoressa con orgoglio e con soddisfazione l'ottenimento del foglio rosa, del patentino della moto, e aveva detto, prof, ce l'ho fatta. E quindi questa ci lascia veramente ancora di più senza fiato e senza parole. E tutta la scuola si sta stringendo attorno alla famiglia di Timoti. Sono stato proprio questa mattina a casa e entrare in una famiglia colpita da un fulmine a Celsereno sicuramente è qualcosa che ti turba. Non è stata ancora fissata la data del funerale, ma di una cosa è certo, Don Paolo Magoga. Hanno detto che verranno al funerale e finito il funerale faranno una grande accelerata per dare gas e ricordare il loro compagno che era un po' soprannominato il Gigante Buono. Incidente con tre veicoli coinvolti nel pomeriggio lungo il terraglio tra Treviso e Preganziol sulla carreggiata due auto che si sono scontrate con le parti anteriori mentre una terza è finita nel profondo fossato laterale ribaltandosi. Non si sono registrati i feriti in serie condizioni. Sul posto soccorritore del suo M118 e forze dell'ordine lunghe code si sono fermate in entrambi le direzioni di marcia in attesa che mezzi incidentati venissero rimossi. Dopo Flexman arriva Parkman, il vendicatore dei parchimetri. Vandalizzate diverse colonnine in centro dove è stata una mattinata di disagi. Preoccupati i cittadini che ora rischiano multe per sosta senza ticket. Arrivo qua per lavoro, è rotto e si fa come si fa faccio una foto e le accontesterò se dovesse arrivare la multa. Non ho modo di poter pagare, voglio pagare, non posso pagare, cosa devo fare? Mi arrangerò, se me le accontesterò fino alla morte. I soldi ce li ho, ma non so dove andare a parcheggiare cioè non posso pagare. Dove si va a pagare? Mi sto domandando è il terzo che trovo così, non si può pagare. Dove è stato lei prima? Sono stato in città giardino, lì ce ne sono due. Questo è il terzo, anzi quattro, quattro, tutti così. Sono queste le conseguenze del ride vandalico messo in atto da quello che nelle settimane calde di Flexman è già stato soprannominato Parkman. Una mattinata di disagi e imprecazioni tra chi semplicemente doveva fare il ticket per la sosta in pieno centro a Treviso. così appare il parchimetro di Piazza Duomo schermo a cristalli liquidi distrutto e schiuma nelle fessure con buona probabilità poliuretano espanso. Insomma, un bel danno. Stesso Copioni in Via Luzzati e in Via Damiano Chiesa preso d'assalto il centralino dell'assistenza. Il parchometro è stato vandalizzato allora se lei guarda davanti, dritto a lei guardando il parchometro, 50 metri più alti dove c'è il Conad, c'è un parchometro funzionante e lei può dare lì comunque alla sosta. Di là funziona ma non posso pagare. Appena mai. Perché il codice non risulta esistenza in un'altra colonnina probabilmente sarà legato alla zona d'appartenenza delle colonnine quindi c'è codici specifici per area e quindi non per tutto quanto la città di Treviso praticamente. E come per Fleximan, anche Parkman solleva reazioni contrastanti nelle ore in cui la stessa polizia locale sta scandagliando le telecamere della zona. Se il comune ti mette una tassa del parcheggio che certe volte dici pago la tassa tutto il giorno, questo, questo, questo uno magari dice anche basta però questo non è il modo di comportarsi basta essere persone civili. Beh, facciamoci qualche domanda. Evidentemente stanno tirando un po' la corda per cui ci sta anche un po' tutto questo per cui la gente è un po' stanca. Ma per il momento le preoccupazioni principali riguardano eventuali multe. Se Fleximan, almeno nelle intenzioni, sembra voler eliminare il problema Parkman lo crea. Se mi fanno la multa che sono venuta qua che ho provato, che ho visto che è non credo sia giusto pagarla. È impossibile pagare. Quindi oggi il comune dovrebbe adottare una moratoria diciamo, secondo lei. Deve, deve. Se non lo fa faremo ricorso. Ci sarà il giudice di pace. Se non fa la moratoria con gli strumenti rotti non so cos'altro possa fare. Comunque esistono nel codice civile e è previsto così. E sulla questione è intervenuto oggi il sindaco Mario Conte che condanna fermamente l'atto vandalico escludendo una moratoria per il pagamento del parcheggio. La cosa che fa preoccupare è un po' la piega che sta prendendo questo fenomeno dove queste manifestazioni di disagio si esprimono attraverso dei veri e propri reati atti vandalici che provocano danni ingenti e che poi la comunità deve ripagare. Quindi c'è poco da capire c'è poco da tollerare qui c'è esclusivamente da condannare senza se e senza ma. Nel condannare fermamente gli atti vandalici delle ultime ore dimostra preoccupazione il sindaco di Treviso Mario Conte per l'ennesimo episodio di danneggiamento di un bene pubblico che poi l'intera collettività dovrà ripagare. Nessuna tolleranza dunque per un gesto che non può essere qualificato come bravata ma è un reato e come tale va perseguito. Perché se passa il messaggio che dobbiamo capire tollerare queste manifestazioni di disagio significa che è finita la società civile nel senso che le regole di rispetto reciproco e di convivenza dovrebbero saltare tutte perché ogni regola deve essere capita e quindi può essere infranta. Difficile paragonare il gesto con quello di chi se la sta prendendo nelle ultime settimane con gli autovelox secondo l'assessore Barbisana. Certo che prendersela con un dispositivo che chiede 0,80 o 1,50 euro paragonarlo a un autovelox che può emettere multe di valore ben superiore mi fa sorridere. Non vorrei che ci sia un tentativo di emulazione ma poi alla fine lo sappiamo che vengono presi e la pagheranno cara. Circa la moratoria sul pagamento del parcheggio chiesta da molti cittadini allarmati dal rischio di trovarsi la multa il sindaco non ha dubbi. I parchimetri fuori uso messi fuori uso da questo vandalo sono tre però le colonine per il pagamento sono molte di più quindi basta ricordarsi il numero e si può procedere con il pagamento in un'altra colonina disposta in un altro quadrante della città. Non si possono fare deroghe in questo caso perché non abbiamo la competenza per poterlo fare. Chiedo un po' di pazienza sono stati danneggiati questa mattina e già dalle prossime ore speriamo di poter ripristinare il servizio. Ed ora ci spostiamo a Olmi di San Biagio di Callalta dove c'è stato un tentato furto in canonica a ladro messo in fuga da un operaio. Che persona era? Sulla Trentina caucasico era evidentemente era sotto l'effetto di droghe. Un tentativo di furto ha rotto la tranquillità di Olmi di San Biagio quando un uomo di circa 30 anni ha cercato di penetrare attraverso una finestra della canonica. però il mio collega è arrivato e l'ha fatto scappare era un ragazzo. L'episodio è accaduto mentre un operaio stava lavorando sul cantiere della canonica quando ha notato l'individuo intento a forzare le persiane e la finestra al piano terra. Sì sì l'ho visto era in piedi sopra il balcone che sfondava il vetro a calci. Il giovane operaio ha prontamente avvisato i carabinieri per fermare l'uomo tuttavia nonostante la tempestività della segnalazione e l'arrivo immediato dei militari il malvivente è riuscito a dileguarsi fuggendo attraverso i campi. Sei tu che l'hai inseguito? Sì e sì beh è scappato non sono riuscito a prenderlo. Correva come un disperato e ha saltato una recinzione di due metri. Un fatto che ha messo in allarme la comunità preoccupata per la sicurezza dei luoghi sacri le indagini da parte dei carabinieri sono in corso per identificare il responsabile anche attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona. Ancora cronaca indagine della Guardia di Finanza di Treviso sulla somministrazione illecita di mano d'opera con contratti fittizi e fatture fase nel mirino una cooperativa nel settore della logistica. Abbiamo scoperto nel settore della logistica trevigiana falsi contratti d'appalto per la montare di 7 milioni di euro. 12 imprenditori sono stati denunciati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni di fatto inesistenti nonché per reato di somministrazione illecita di mano d'opera. 690 mila euro il complessivo delle sanzioni erogate 14 le società coinvolte tra le quali una cooperativa trevigiana attiva nel settore della logistica. La cooperativa trevigiana che abbiamo verificato non ha fatto altro che realizzare un uso distorto del contratto d'appalto di servizi. Dalle verifiche delle fiamme gialle è infatti emerso che i rapporti di lavoro con i vari committenti erano sprovvisti del rischio di impresa e dell'organizzazione autonoma dei mezzi e delle risorse elementi che rendono legale un appalto. la totale assenza di un potere direttivo nei confronti dei lavoratori che erano di fatto soggetti alle indicazioni delle società che avevano stipulato questi falsi contratti d'appalto. Gli operai infatti timbravano le loro presenze nelle sedi dei committenti e non nella cooperativa la quale è emerso e metteva le fatture solo dopo aver ricevuto dai clienti il monteore accumulato dai propri dipendenti operazioni illecite che hanno come obiettivo l'assunzione di manodopera a basso costo. Utilizzare falsi contratti d'appalto per aggirare la normativa da parte di chi dovrebbe essere iscritto in apposito albo e autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali crea le condizioni per lo sfruttamento dei lavoratori. Bambino tolto ai genitori affidatari la suora sarà rinviata a giudizio per calugna il fatto era avvenuto a Mogliano Veneto. Anni di udienze e di dolore per due genitori affidatari che nel 2021 si sono visti togliere il bimbo di otto anni tutto è scoppiato dopo un documento redato da una suora che è anche la coordinatrice della scuola frequentata dal piccolo secondo la religiosa il bambino sarebbe stato vittima di violenze e maltrattamenti sia fisici che psicologici poi tutto si è messo in moto e poco dopo il bimbo che avevano in casa da quattro anni alla coppia è stato tolto ora per la suora è stato chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di calunnia. Già che il fatto che sulla base di prove abbastanza decisive si profili la calunnia è un discorso che dà una luce completamente diversa al al fatto. il bambino dopo due anni ospitato presso una struttura è stato dato in affidamento ad altri genitori una storia racconta l'avvocato che ha preso dunque una piega drammatica noi stiamo correndo contro il tempo abbiamo ipotizzato di fare un ricorso alla corte europea dei diritti dell'uomo alla CEDU per vedere se per vedere se è riconosciuto questo vulnus al sistema perché questo è una oltre il dramma personale c'è proprio e io l'ho vissuto particolarmente l'impossibilità di avere voce in una valutazione personale i genitori affidatari spiega sempre il legale non hanno potuto avere voce in un sistema che non li ha tutelati da quando il bambino è stato portato via non lo hanno più potuto vedere una battaglia che l'avvocato Bonotto ha fatto sua ci sto lavorando su tutti i fronti da troppo tempo quindi è diventata una una lotta che facciamo in tre da da troppo tempo il prossimo passo per la famiglia è quello di vedere riaffermare l'idoneità all'adozione del bimbo che è stata negata dal tribunale dei minorenni spacciava cocaina e ascis ai giovanissimi arrestato a Vittorio Veneto un 22enne già noto alle forze dell'ordine il giovane 22enne la notte tra domenica e lunedì è incappato in un controllo dei carabinieri in Viale della Vittoria alla vista dei militari dell'arma ha cercato velocemente di cambiare direzione movimento che ovviamente non è passato inosservato ne è nato un inseguimento terminato in Via Lioni a Vittorio Veneto dove l'automobilista è stato bloccato nelle tasche il 22enne aveva ben 35 involucri termosigillati di cocaina per un totale di 22 grammi oltre a 13 grammi di hashish tutte dosi già confezionate pronte per essere spacciate il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti già conosciuto alle forze dell'ordine gli investigatori ritengono che sia proprio il 22enne ad essere uno dei riferimenti nel territorio per lo spaccio ai giovanissimi anche minorenni non solo perquisita l'abitazione sono stati trovati anche altri 10 grammi di polvere bianca e 30 di hashish il ragazzo posto agli arresti domiciliari è comparso subito di fronte al giudice del tribunale di Treviso per l'udienza di convalida dell'arresto confermata la stessa misura il 22enne rimane ai domiciliari sono 700 le donne che in un anno sono arrivate nei pronto soccorso della marca con segni di violenza a dirlo i dati aggiornati dell'Ulss 2 un fenomeno che da oggi vedrà in campo anche gli operatori del benessere parrucchieri ed estetiste nell'anno scorso il 2023 all'interno dei pronto soccorsi della marca trevigiana che sono 6 ricordo Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto o Derzo abbiamo ricevuto accolto riconosciuto anche in parte circa 700 donne di queste 700 ovviamente solo una parte minima farà denuncia purtroppo la fotografia sulla violenza di genere nella marca resta impietosa il fenomeno evidente e dietro ai numeri ci sono le storie sono donne italiane residenti nella provincia di Treviso le staniere sono il numero minore ma spesso perché non conoscono nemmeno la rete di territorio e anche perché spesso e volentieri non possono uscire di casa da sole e si vengono accompagnate dall'autore di violenza che spesso il marito e il compagno non possono parlare spesso nemmeno conoscono la lingua 80% sono donne italiane anche con figli minori e così oggi a scendere in campo sono anche gli operatori del benessere estetiste e parrucchieri in primis che saranno coinvolti in un progetto coordinato dal comune di Treviso con i soggetti che si occupano di violenza schierati di imprenditori di confartigianato CNA Casa Artigiani vere e proprie sentinelle molte volte ci segnalano queste situazioni di disagio ma soprattutto segnalano la vergogna che le persone vittime di violenza provano magari nel spogliarsi per un trattamento estetico oppure nei problemi della cute perché magari l'acconciatore facendo determinati tipi di trattamenti di capelli nota che ci sono delle ferite ci sono mancanze di capelli quindi notano un disagio e proprio un'incapacità nel denunciare un'incapacità nell'aprirsi nel confidare che purtroppo sono vittime di violenza nella maggior parte dei casi violenza domestica la comunità ha la capacità di intervenire se ognuno si prende parte di una piccola responsabilità e fa la propria parte a nessuno viene chiesto di più non chiediamo ai parrucchieri o alle estetiste di sostituirsi agli operatori sarebbe sbagliato però essere competenti può aiutare le persone questo può migliorare il benessere della persona e delle nostre comunità il mondo dell'impresa la città di Padova intera il Veneto piange Francesco Canella scomparso la scorsa notte dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale aveva 92 anni fondatore e presidente di supermercati Ali 60 anni di lavoro in bici trasportava generi per un distributore alimentare americano poi servendo prodotti freschi al banco lascia la moglie di Rosella ai figli Gianni e Marco e un impero composto da 117 supermercati e 4737 collaboratori tante commosse le reazioni del mondo politico istituzionale ed economico l'ultimo saluto a Francesco Canella è stato fissato per le 15 di venerdì nella basilica di Santa Giustina ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari e siamo alla politica europea 2024 e regionali 2025 la centrodestra è in fermento e non mancano le tensioni fratelli d'Italia sogna Luca Zai a Bruxelles la Lega frena ma scusami non è che debba stare per i prossimi 20 anni scusami ma allora deve stare per i prossimi 20 anni vuoi condannarlo a fare il premio governatore io non lo condanno a niente è una sua scelta non è detto che poi Zai si è domandato di Dica di Sia non è che si è detto lo vede bene le europee beh sicuramente sarebbe un traino enorme per la Lega se si crede la sede europea a proposito di consensi di capacità di raccogliere consensi per un partito come la Lega indiscutibilmente sarebbe un valore aggiunto enorme a lanciare di fatto Luca Zaia alle europee ci pensa Fratelli d'Italia con Raffaele Speranzon endorsement non richiesto fa intendere dallo studio Giuseppe Panna leghista doc già assessore proprio con Zaia e quello che sembra uno scambio di battute sagaci nel corso di ring è un messaggio politico serio visto che in Parlamento sta e giace un emendamento della Lega che vuole eliminare il limite del terzo mandato per i governatori insomma Zaia per i meloniani va assolutamente valorizzato ma possibilmente altrove mi sembra più quasi un voler tenere Zaia qua piuttosto che lasciarlo libero per altri incarichi visto insomma la grande capacità che ha sicuramente una possibilità di essere una risorsa anche in altri ambienti in pole position a Palazzo Balbi per Fratelli d'Italia resterebbe Luca De Carlo ma tra le file della Lega l'obiettivo è un altro spero di non offendere nessuno ma come leghista farò di tutto perché il prossimo candidato per la regione Veneto sia un altro leghista e c'è poi una variabile con nome e cognome Flavio Tosi come conferma il sindaco forzista dice Salto Emanuele Crosato non vedrei nessun problema che fosse un candidato di Forza Italia per le elezioni europee di giugno si attende la ricandidatura all'europarlamentare uscente del partito democratico Alessandra Moretti che si dice invece per pressa sulla corse della segretaria Elie Schlein ufficialmente si ricandida dunque per le europee ufficialmente io sono una deputata uscente dal Parlamento europeo quindi gli uscenti sono automaticamente candidati a meno che non arrivi lo stop da parte del partito ovviamente non c'è nessuna ufficializzazione perché l'ufficializzazione la deve dare il partito facendo tutta una serie di considerazioni diciamo che come deputata uscente io confido in una candidatura poi certamente questo non dà per scontato l'elezione perché servono i voti e le preferenze ma sicuramente sono a disposizione del partito per correre alle prossime edizioni europee e su Elislein la candidata europea come la vede? Guardi è una discussione che si trascina a mio avviso un po' da troppo tempo nel senso che noi abbiamo un possibile duello e io credo che Giorgia Meloni abbia fatto bene ad individuare in Elislein la sua competitor sulla discesa in campo invece delle due leader ho qualche perplessità in più non tanto per Fratelli d'Italia che farà la sua scelta non è il mio partito e quindi io non devo giudicare le scelte di Giorgia Meloni ma diciamo sarebbe la prima volta che la leader il leader del partito democratico scende in campo direttamente e probabilmente non è nelle corne non è nella storia del PD che non è mai stato un partito personalistico i pro sono quelli appunto di una polarizzazione tra le due leader e quindi tra i due partiti il contro è che in questo modo appunto si svantaggiano soprattutto le donne della lista perché con la preferenza di genere diciamo sarebbe avvantaggiato il candidato uomo che viene dopo la segretaria ed ora una notizia appena giunta in redazione i mezzi di soccorso stanno confluendo a Gorgo al Monticano zona via risorgimento per un incidente stradale appena successo sul posto l'elicottero le ambulanze di Oderzo e Conegliano ed ora invece parliamo di matrimoni religiosi numeri in ripresa nella diocesi di Treviso lo conferma il centro della famiglia di San Nicolò il 2020 l'anno della pandemia ci sono stati 500 matrimoni in diocesi di Treviso gli anni successivi c'è una ripresa di matrimoni 900 nel 22 800 abbondanti nel 2023 pur non arrivando alle cifre pre-covid di 5 anni fa 946 le unioni religiosi in provincia nel 2019 sono stati ben 825 i matrimoni religiosi celebrati in diocesi di Treviso l'anno scorso l'unione religiosa l'abito bianco l'altare ma soprattutto il percorso di fede vedono adesioni in ripresa è il centro della famiglia di Treviso a fornire il dato spiegando che nel 2023 sono state 47 le coppie che hanno preso parte al percorso di formazione al matrimonio in cui si raccontano anche timori e motivazioni paure immediate che esprimono sono rispetto alla situazione lavorativa quindi la situazione economica più di qualcuno che ha contratti precari l'altra paura è quella di sentirsi soli quindi di non avere persone che li prendono sul serio c'è chi non ha neppure raccontato agli amici il desiderio di sposarsi al di là delle difficoltà della vita pratica il matrimonio visto sul lungo periodo risulta per molti fuori moda eppure sono tanti i giovani che vi si accostano tanto che di questa volontà di impegno Don Pesce ammette talvolta di stupirsi 12 le coppie che dal 2 febbraio avvieranno il nuovo ciclo di incontri molte delle coppie che partecipano al cosiddetto corso fidanzati la formazione al matrimonio come la chiamiamo noi vengono senza la decisione di sposarsi e quindi senza nemmeno una data del matrimonio vengono soprattutto per fare un lavoro sulla loro coppia evidentemente è l'unica possibilità che hanno questa di essere accompagnati in un progetto formativo in questo contesto che sappiamo è sempre più delicato a livello relazionale La prevenzione come cultura sono due gli appuntamenti organizzati a Motta di Livenza a venerdì 2 e sabato 3 febbraio nella sala della loggia per divulgare la cultura della propria salute fisica e psichica a partire dalla scelta di stedi di vita e abitudine corrette venerdì dalle 20 e 30 si parlerà di alimentazione e prevenzione al femminile sabato mattina dalle 8 e 30 ci saranno gli appuntamenti gratuiti e individuali con gli specialisti per approfondimenti Ed ora siamo arrivati alla nostra pagina da Belluno e provincia Il CIO ancora ostile ha una nuova pista per Bob Slittino e Keleton a Cortina ma salvo colpi di scena clamorosi sul filo di lana sarà la regina ad ospitare le gare olimpiche di scivolamento nel 2026 Salvo colpi di scena che tradotto significa ritardi nella consegna dei lavori dell'Eugenio Monti 2 la sede delle gare olimpiche di scivolamento e cioè Bob Slittino e Skeleton sarà Cortina D'Ampezzo c'era grande attesa oggi per la pronuncia del CIO sulla sede di gara ma dal quartier generale del comitato olimpico internazionale in trasferta in Corea del Sud per i giochi olimpici giovanili non è arrivato alcunché a lasciare tutti col fiato sospeso è stata un'agenzia della AFP che da Losanna alle 10.36 di questa mattina ha diffuso la posizione contraria del CIO al progetto di costruire una nuova pista a Cortina D'Ampezzo una posizione peraltro già nota sin dal giorno zero ribadita lunedì scorso da Christine Closter del comitato olimpico in una lettera inviata alle principali associazioni ambientaliste italiane per diverse ore quell'agenzia è parsa la pietra tombale su Cortina in realtà il CIO si afferma di qua delle Alpi non può imporre alcunché all'Italia paese ospitante dei giochi 2026 la responsabilità dell'organizzazione dei giochi è della fondazione Milano Cortina che non ha mai negato altre opzioni neppure ieri quando dal CDA è stata confermata Cortina quale sede di gara in attesa della firma del contratto di appalto che la società infrastrutture del governo simico potrebbe sottoscrivere a giorni con la Pizzarotti di Parma l'unica presa di posizione odierna in relazione all'agenzia AFP sul CIO è stata quella della senatrice di alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia che ha chiesto al ministro Abodi di riferire in aula in relazione agli extra budget del progetto Light mandato a bando senza opere essenziali è in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale di Treviso Davide Mazzone l'ex primario di anestesia e rianimazione del San Martino di Belluno investito da un'auto mentre era in sella la sua bicicletta l'incidente è accaduto lunedì pomeriggio a Piaia di Ponte nelle Alpi Mazzone ha riportato fratture multiple al bacino e alle costole a due vertebre rotte il medico ha lasciato l'incarico da dipendente dell'Ulse 1 lo scorso giugno per aggiunti limiti d'età il dottor Mazzone è noto per il suo contributo nel campo della bioetica e della donazione di organi e non c'è pace per Sara Rebeschini e per sua moglie Jessica Herzog che da 15 mesi lottano per poter trascrivere l'atto di nascita della loro bambina nata da fecondazione assistita eterologa all'anagrafe di Belluno oggi l'ennesima PEC del loro avvocato raggiunto sia il comune che il prefetto se registrano solo col mio nome potrebbe essere che loro decidano di darle il mio di cognome che però non è quello che è attuale non è quello che è adesso perché lei la bambina ha il cognome di mia moglie avevamo conosciuto la storia di Sara e di Jessica sua moglie al primo Pride di Belluno erano arrivate da Vienna dove vivono e con la piccola Amelia in braccio in piazza Duomo avevano raccontato il calvario per poter trascrivere l'atto di nascita della bambina che oggi ha 15 mesi nata da fecondazione assistita eterologa e senza ricorso alla gestazione per altri l'ufficiale di stato civile dell'anagrafe di Belluno ha rigettato nuovamente la domanda indicando genericamente il contesto normativo lacunoso che ostacolerebbe la trascrizione il comune il comune mi ha detto che la trascrizione avverrà parzialmente e adesso abbiamo avuto 15 giorni di tempo per mandare le nostre alle nostre eventualmente se abbiamo qualcosa da dire le nostre osservazioni e noi siamo in una situazione molto insicura molto incerta noi aspettiamo da parecchio tempo nessuno ci dà una risposta non la viviamo bene naturalmente perché ci sono molti aspetti legali che sono aperti dovesse capitare qualcosa a Sara cosa accadrebbe in Italia alla bambina se la coppia si separasse cosa potrebbe avvenire l'ufficiale di stato civile deve trascrivere l'atto a meno che non ci sia un motivo contrario all'ordine pubblico e questo non c'è c'è già una delle decisioni della corte di cassazione ci sono le decisioni della corte costituzionale hanno detto che non nel nostro caso quindi nel caso di secondazione eterologa non c'è una motivazione contraria all'ordine pubblico l'avvocato Antonio Rotelli di Roma dopo la messa in mora del comune di Belluno lo scorso 4 gennaio oggi ha inviato un nuovo sollecito e contestualmente ha invitato il prefetto a disporre la trascrizione dell'atto di nascita della piccola Amelia qualora sussistesse ancora l'inerzia del comune la mancata adozione di un provvedimento conclusivo stigmatizza illegale costringerà a presentare anche un esposto in procura visto che l'irragionevole tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza nel settembre del 2022 costituisce una responsabilità omissiva gravissima il comune di più che per il presunto fleximan teme per un problema decisamente grave cioè quello di restare isolato dal resto della provincia sono infatti imminenti lavori di rifacimento della galleria che è l'unica porta viaria della valle e comincia a salire la preoccupazione fra qualche mese dice la vice sindaca di Santo Stefano per arrivare a Pieve di Cadore ci vorrà almeno un'ora e mezza è inaccettabile almeno iniziare così senza una contropartita non è accettabile assolutamente infatti a breve diremo daremo una lista di quelle che saranno le nostre richieste il conto alla rovescia per i lavori alla galleria comelico è già iniziato ed è inarrestabile in primavera la data precisa non è ancora stata fissata inizierà l'intervento dell'ANAS che rischia di isolare totalmente le terre alte se va bene per almeno tre anni i danni per le attività economiche si preannunsa rinunciano ingenti e tra semafori tra limiti comunque di distanza di 100 metri non so come possa essere gestita insomma questa cosa anche perché per dire io stesso ho anche un'attività commerciale se lavorando anche comunque con le persone del cadore se uno deve partire a venire in comelico ci rinuncia e poi c'è la questione forse più importante legata al diritto alla salute dei cittadini se ci fosse una chiamata al 118 adesso noi abbiamo le ambulanze qua che ci ha lasciato la regione per fortuna però dovranno smantellare il cantiere avranno bisogno di 15 minuti quindi se ci fosse anche un'emergenza che l'elicottero comunque non può arrivare non è accettabile poi il primo ospedale comunque sarà a pieve una delle richieste vorremmo che fosse fatta una convenzione con l'ospedale meno di San Candido che è più vicino quindi non bisognerebbe smantellare nessun cantiere come è un po' cortina con la croce bianca adesso trovare una convenzione in accordo con la regione da qualsiasi parte lo si guardi questo intervento certo atteso e che interverrà sulla sicurezza del manufatto sarà un danno enorme un cambio di vita per tutti noi come gli anni siamo sempre abituati a rimboccarci le maniche però non ci rendiamo conto veramente cosa accadrà cioè senza contropartita ripeto questa cosa non può essere accettata abbiamo insistito fin dall'inizio di sistemare la strada della vecchia valle che ricordo è stata fatta nel 1800 a mano voglio dire loro non hanno voluto sistemare perché adesso le strade nuove devono avere certe ovviamente modalità di sicurezza insomma però c'era tutto il tempo per farlo è mancata la volontà è mancata la volontà la volontà di spendere i soldi per noi perché forse preferiscono spenderli da un'altra parte ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo grazie davvero per averci seguito e vederci entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura ben trovati al meteo anticiclone ancora protagonista condizioni stabili che si traducono in ristagno di inquinanti nebbia in pianura e clima piuttosto mite vediamo il dettaglio di giovedì primo febbraio sul Veneto il mese inizia senza particolari sconvolgimenti rispetto ai giorni scorsi dunque cielo a tratti sereno con qualche velatura avremo varie foschie sulle zone pianeggianti precipitazioni assenti salvo più che altro qualche fiocco di neve in quota sulle Dolomiti temperature stazionarie o in lieve calo minime intorno a 0 o di poco inferiori massime tra 5 e 6 gradi ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia anche in questo caso di notte e al mattino sulla costa tra Lignano e Grado possibili nebbie cielo sereno o poco nuvoloso ovunque a seguire temperature minime tra meno 2 e 2 gradi massime sui 5-9 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà piuttosto soleggiato con locali nevicate sui settori di confine specie a partire dal pomeriggio temperature minime tra meno 1 e 2 gradi massime sui 9-11 all'incirca dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci busti, tutori e protesi di arto personalizzati ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato soluzioni per star bene e attravi l'anima e l'anima 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 Grazie a tutti.